Il territorio di Vigo di Cadore vanta ben sette chiese, quattro delle quali sono considerate monumento nazionale. La regola di Vigo, Laggio, Compiniè e Pelos di Cadore ha recentemente deliberato di inserire nel proprio statuto l'impegno di contribuire economicamente alla manutenzione degli edifici sacri, sovvenzionando anche le attività di culto. Di questa interessante iniziativa ci parla il presidente della regola, dottor Flavio De Nicolò. Abbiamo deciso di elargire un contributo in denaro alle chiese, esattamente a 4.000 Euro alla chiesa parrocchiale, 3.000 Euro ciascuno alla chiesa di Pelos, San Bernardino e San Antonio di Laggio e 500 Euro alla chiesetta di Pelos. Contributo che è stato anche ben accettato dai gestori, in quanto effettivamente da un po' di tempo, e questo lo posso dire anche per esperienza, essendo anche io presidente del capitolo, l'attività di culto viaggia in difficoltà economica. Dobbiamo ritenere che la chiesa stessa esecita una funzione sociale e quindi in questo ambito la regola, mi sembrava che non solo giusto, era doveroso e ripeto, è stata riconfermata anche dall'Assemblea Generale di questo sostegno all'attività di culto. L'attività di culto che vuol dire sia l'attività normalmente delle funzioni religiose, come l'attività legata anche eventualmente a qualche intervento di manutenzione degli edifici religiosi.